e Donna Tartt sta sfilando sul red carpet per l'incontro che avrà tra poco con Wes Anderson Donna Tartt, lo ricordiamo, è vincitrice del premio Pulitzer per la narrativa nel 2014 e quindi l'incontro che esiterà appunto con protagonisti lei e Wes Anderson racconterà il rapporto che c'è fra il cinema e la letteratura, il cinema e la scrittura un rapporto fondamentale molto importante e niente, non si è fermata con nessuno, però ha firmato le autografie quindi diciamolo che almeno il pubblico è soddisfatto noi un po' meno perché avremmo voluto scambiarci due battute, però va bene così e vediamo se si ferma da qualche parte Wes e nulla, non va da nessuno e va anche lui direttamente al photocall si fermano tutti chiaramente dai fan a fare autografi, selfie, foto e quant'altro ma non si fermano poi lei ha un vestito decisamente molto retro e sta abbracciando Donna Tartt e secondo noi è la moglie di Wes Anderson perché perfetti insieme, in stile perfetto e ancora foto per loro che sa cosa racconteranno dentro adesso proviamo ad andare a vedere l'incontro per la quarta giornata della festa abbiamo l'incontro ravvicinato tra Wes Anderson e Donna Tartt grazie